Capitolo 3 Infinito Cos'è questo l'universo degli alieni? Mille pianeti E tu che sei? Sono universo Ma perché mi è infinito? Io ho tutta la cosenza Di tutto il planetario Di tutto l'universo So cosa stai cercando, Catarsi Un modo per fermare il male che Kirsimo vuole lì so fare e spuntare Kirsimo vuole dichiarare guerra agli anime E vuole controllare i notturni Devo impedirlo Perché no? Vieni con me Ti farò vedere una cosa 200 anni fa La guerra furiò su questi pianeti Gli notturni Creature aliene pericolosissime Hanno invaso tutti i pianeti del planetario Distruggendo tutto quello che incontravano sul loro cammino Se Catarsi Non riuscirai a fermarlo Sarà la fine per tutti noi Kirsimo deve essere fermato Altrimenti farà risorgere tutto l'intero esercito dei notturni E... Il loro leader Il Baron Cragas Un'assenziato folle che 3.000 anni fa Fesse a creare i notturni Non devono essere assolutamente ribellati tutti quanti Sulla terra ci sono circa 50 notturni Se Catarsi Trova il modo di disfare il libro Potrebbe risvegliare tutti quelli nel sistema planetario E l'intero universo verrebbe distrutto Infinito Come posso finirli? Come posso fermare tutto questo? Beh Il tuo potere è stato sbloccato Io potrei anche essere l'eraltro D'accordo Pallo Non sarà facile Tieni Sarà doloroso Ok Il tuo partere è stato fatto Catarsi Adesso E ora che tu torni nel tuo mondo Cosa? Aspetta Non ho più tempo per parlare Più sto in contatto con te Più posso tentare di fare del male a qualcuno In notturni potrebbero riferire al suo momento o l'altro Forza Ferma Kyushima E salva il mondo Tornato nel rifugio Bene Catarsi Ehi Dov'è Kyushima? È stata portata via da Kyushima Sarà per decifrare il libro Dobbiamo fermarli Altrimenti sarà troppo tardi Andiamo Forza Forza ragazza Forza Usa il libro Pfff 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 Lorde Hilux Finalmente Pfff Che ho sei ma Pfff 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 Catarsi Che piacere rivederti Fermati Se libererai il male di quel libro Sarà finita Pfff Pfff Il mondo è sul loro del barato Io voglio solamente salvarlo Per quanto pensi che noi potremmo sopravvivere I notturni Hanno la tecnologia Hanno la consistenza Di farsi Vivere Più e lungo Io so che il mondo Venga liberato dal male In cui essere incastrato Sei tu il male Pfff 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 Catarsi Pfff 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 E va bene Pien o petites Pien Anche un scallops Pfff Pfff Mi sale senta la mente Cazzo Ma Pfff 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 Da torri Pfff A me Pfff ora basta infinito infinito è la guardiana dell'universo grazie catassi io sì ma tu non fermerai il mio piano a essere ok che cosa hai fatto? l'ho ucciso era questo il nostro obiettivo vero? i notturni non ti preoccupare scudo protettivo dammi il libro a partire dalla mia spesa daglielo Kira